ehi malusardi altra malusardi al volo per rossetti un minuto e mette il fine del terzo quarto a tripla di bossola aveva già toccato i 20 punti un'altra tripla 5-8 un 30, due secondi bossola, gran creazione tra battia subendo il fallo bassani per riaprire la partita la tripla, Andrea Bassani vediamo, vediamo Majorano, altri due Majorano 5-8 in velocità, bravissimo Cacciani arresto e tiro da fuori, bellissimo altra pietra sulla partita Anzani col contatto, mette dentro secondi, Fusco vanno in semifinale dopo dieci anni 72-83 punti in finale meritata vittoria di Fusco avanti dall'inizio della fine rinde il team, comunque il loro primo anno al torneo è stato un'ora nei quarti di finale